Ciao a tutti amici bentornati su Fasmofobia oggi siamo con il quindicesimo episodio e oggi 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 bene eccoci qua io prendo taccuino fotocamera e crocifisso dividetevi altri pezzi che ci muoviamo ragazzi ma te prendi sale mf ok vabbè vendi a spirit box il termometro e e poi sale o la torcia ultravioletta perché non abbiamo torci osce però qua non vedo niente a prescinde proprio non vedo niente sento passi qui vedo niente ragazzo però si vede a piccia che non vedo un super star c'è da noi oltre lui è bene bene scendiamo perché non vedo veramente un per star scrivi su un libro spiritico ti sfido pezzo di nota se una nota sa che vuol dire nota significa ma tre ammunez tutti gli staghi eh su gli staghi non risponde ancora non si comunque non cammina non voglio che di forse lo dico è un rete te l'ho fatta la foto te l'ho fatta la foto brutta pana si è scritto su un libro per forza uno spirito sì 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 secondo me pensavo un great e invece è uno spirito e vabbè per me ragazzi per me possiamo andare ma bebbis a degiuto caccia no come è morto come è morto metti sì è morto adesso no no voglio no ragazzi no non è possibile ragazzi no si vede in questa ma comunque mamma mia che modernità di da scrivi su un libro scrivo niente un b mi senti sei michele dove sei e troviamo ultravioletto questa è l'unica cosa che ci abbiamo adesso situazione effettivamente Grazie a tutti. Bene, molto bene. Allora, siamo. Gobbo di luce, di fronte a me, proprio qui, nel soggiorno qua. Dove sta il... È proprio qui. Ha camminato. UV? No. No. Niente UV. No, ma non ha fatto neanche rumore. Ora sì. Vedi sulla finestra, vedi sulla finestra. Oh, zero, zero. Mi senti? Ha lanciato il libro? Sì. Oh. E vanno a... Ho visto camminare. Stavo fuori. Ho visto camminare con Dozzi. Hai visto il Dozzi? Sì, stavo fuori la finestra. Stavo guardando, ho visto uno mini decamminare. Sì, stavo fuori la finestra. Sì, stavo fuori la finestra. Vanno a venderli? 犟ока, vanno a vendola. Viviamo, tu seu nego è morto. Posizione 6. Vanno aяют a licensing che era Radio Ruon. SANTO CIEGO BENEVITTO Grazie per la visione!